Assessore, è partito l'anno scolastico, questa mattina in conferenza stampa avete parlato delle novità che ci sono per la riflessione scolastica e anche dei nuovi menu che i ragazzi trovano nelle mense. Sì, allora il servizio di riflessione inizierà il 5 di ottobre, quindi a giorni e abbiamo rivisitato il menu che già era ottimo con i cibi biologici di altissima qualità, l'abbiamo revisionato con la collaborazione della commissione Mensa che abbiamo istituito quest'anno, quindi collaboriamo con loro e naturalmente se ci sono criticità loro ci portano a conoscenza di tutto quanto e insieme cercheremo di dare risposte e soluzioni come abbiamo fatto anche per quest'anno. Per un discorso economico finanziario ma soprattutto di equità e giustizia sociale un metodo che è questo, abbiamo pensato di far pagare poco a chi ha poco, un po' di più a chi ha un po' di più e un po' di più ancora a chi ha un po' di più, ancora di più, cioè secondo le fasce di reddito. Se lei pensa che fino all'anno scorso 400 bambini erano esonerati, su 1.200 in totale che soffrivano del servizio, i conti si fanno subito velocemente, su 1.250.000 euro di spesa che il comune affronta, la parte che il genitore dava, contribuiva, era di soli 300.000 euro. In questo modo cercheremo di coprire non tutta la spesa ma arriveremo al 30-35%.